Gisk offre una vasta gamma di lettini prendisole per ogni gusto, dimensione, colore e prezzo, perfetti per creare un angolo relax all'aperto. I lettini di Gisk sono fatti con materiali resistenti alle intemperie come acciaio, plastica, vimini in polirattan, con superfici trattate con fotoprotettori per prevenire lo sbiadimento del colore. Alcuni modelli di lettini includono caratteristiche come schienali regolabili, cuscini comodi e ruote per la mobilità garantendo il massimo comfort. Fra i modelli disponibili ci sono il lettino URE in alluminio, il resistente tamboluse con struttura in alluminio e polirattan, il versatile Hulling in acciaio e polirattan che può essere separato o combinato, e il lussuoso lettino doppio UGILT realizzato in acciaio, galvanizzato e legno duro FSCR oliato.